Il nostro relatore adesso è Marco Piergallini, rappresentante sindacale del CONAPO, quindi Vigili del Fuoco, e funzionario dei Vigili del Fuoco di Roma. Dal novembre del 2015 ci troviamo a gestire le chiamate di soccorso tramite NUE 112. Non salviamo più nessuno, questo lo dovete sapere tutti quanti, non facciamo più in tempo, ma se ti segnaliamo che le procedure sono sbagliate, rivedi le procedure, le procedure le hai fatte te, se ti rendi conto che la gente muore, che non si riesce a fare un soccorso efficace, cambia la procedura. Il problema però, e qui ce lo possiamo dire tutti, perché siamo tutti i professionisti di settore, o quasi, questi stanno ammazzando la gente, perché questo è poi l'estrema sintesi. E ci stiamo spendendo pure un sacco di soldi. è facile capire che c'è qualcosa che non va, io penso che l'hanno capito tutti, no? Cioè una persona di medie capacità l'ha capito. Perché non fanno niente per cambiarlo? Grazie. 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 Grazie.